Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Oggi andiamo avanti con la nostra storia dell'ultimo secolo di Afghanistan. Una storia che ci sta lentamente permettendo di capire come si sia arrivata alla situazione attuale. Abbiamo iniziato con due pillole che ci hanno mostrato un Afghanistan più antico, in sotto certi aspetti quasi medievale, un Afghanistan frammentato in tantissime tribù, riunito sotto il potere di un unico sovrano. Ci hanno mostrato un Afghanistan passare in vario modo tra la prima e la seconda guerra mondiale. La puntata di ieri poi è stato un approfondimento proprio sulla prima guerra mondiale. Poi abbiamo visto l'Afghanistan mutare, un lungo regno di Zahir Shah che lentamente ha cercato di portare l'Afghanistan nel mondo moderno attraverso riforme politiche, riforme religiose, ma soprattutto riforme della società e dei costumi. Poi abbiamo visto un colpo di Stato. Nel 1973, infatti, il governo di Zahir Shah, ultimo re dell'Afghanistan, era stato abbattuto da un suo cugino, Daoud Khan, il quale aveva abbattuto il trono afgano con un colpo di Stato praticamente senza spargimento di sangue e aveva preso il potere. Oggi ripartiremo da qua e mostreremo un'altra faccia di questa storia. Perché se fino adesso abbiamo fatto, dopo tutta un'introduzione, abbiamo visto un Afghanistan ben diverso da quello di oggi, sotto alcuni aspetti, sotto altri invece non è molto cambiato, come la frammentazione, con la puntata di oggi invece inizia a mettersi in moto quella macchina che precipiterà l'Afghanistan nel caos moderno. Perché oggi parleremo del governo di Daoud Khan, ma parleremo anche della presa di potere da parte dei comunisti, che porterà all'invasione sovietica e a tutto quello che ne seguirà. La presa di potere da parte di Mohamed Daoud Khan, che vi ho raccontato nella scorsa puntata, se non avete visto quella puntata vi conviene recuperarla perché vi perdereste dei passaggi, la trovate in descrizione nella playlist. La presa di potere, come vi dicevo prima, era stata praticamente senza spargimento di sangue. Questo per due fattori. Il primo era che il popolo afgano, soprattutto nella città, soprattutto Kabul, e soprattutto la sua intelligenza, coloro che a tutti gli effetti detenevano le redini del potere, erano stanchi del governo del sovrano Zahir Shah. Non perché questo fosse particolarmente tirannico tutt'altro, nel 1964 aveva emanato una Costituzione, che oltre a estromettere Daoud Khan dal potere, all'epoca era primo ministro, si era da poco dimesso, ma la Costituzione impediva a qualunque membro della famiglia reale di prendere parte al governo. Ebbene, aveva emanato quella Costituzione nel 1964, che era una Costituzione molto liberale, che aveva creato un Parlamento su base elettiva, che affiancava il sovrano nel governo. L'azione di questo Parlamento però era stata disastrosa. Si erano alternati governi, c'era stato un tentativo di centralizzazione, che ancora una volta aveva visto le tribù resistere contro questi tentativi di modernizzazione, e in generale aveva creato un grosso malcontento. Il secondo fattore era che Daoud Khan aveva avuto una serie di appoggi. Come vi ho raccontato nella scorsa puntata, uno dei più importanti era l'appoggio da parte dell'esercito, esercito che al momento del colpo di Stato si schierò praticamente in toto proprio dalla parte di Daoud Khan. Alcuni, perché ancora ricordavano Daoud quando era stato primo ministro, come aveva favorito l'esercito, come aveva spinto per la crescita dell'esercito, altri ovviamente in opposizione al monarca. Altri ancora invece all'interno dell'esercito si erano schierati con Daoud Khan perché in realtà Daoud aveva avuto come sponsor principale un partito di cui fino adesso non vi ho ancora particolarmente parlato, che però in Afghanistan esisteva in forma organizzata fin dal 1965, quindi da otto anni, il Partito Comunista Afgano, o meglio il Partito Democratico del Popolo Afgano, perché questo era il nome ufficiale. Il Partito Comunista Afgano, che ovviamente, data anche la vicinanza geografica e il periodo storico aveva grossissime connessioni con l'Unione Sovietica, che lo finanziava e lo aiutava, ovviamente sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico, il Partito Comunista Afgano aveva, nei pochi anni della sua esistenza, ripeto, il primo congresso si era tenuto proprio nel 1965, che aveva dato vita alla compagine politica, in pochi anni della sua esistenza si era rapidamente diffuso per l'Afghanistan. Ovviamente maggiormente concentrato nelle grandi città, ma aveva infiltrato anche gran parte dell'esercito, di cui molti quadri erano proprio fedeli al partito. Come tutti i partiti di sinistra del mondo, questa purtroppo è la tradizione, anche il Partito Comunista Afgano si era poi diviso in due correnti. C'era la corrente dei cosiddetti pacciamiti, che potremmo dire era una corrente moderata, una corrente di governo, una corrente che aveva cercato e spingeva affinché il Partito Comunista partecipasse ai governi afghani. Addirittura non era contro il mantenimento della monarchia, ed era stata proprio la fazione pacciamita, quella che si era schierata con Daoud e l'aveva appoggiato nella sua presa di potere. Alcuni, quasi scherzando, dicevano che fosse il Partito Comunista del Regno d'Afghanistan, questo paragone tra il Regno e i comunisti, quasi come se le due cose potessero sopravvivere insieme. La seconda fazione erano invece i cosiddetti calchiti, calchiti, che erano una fazione più estremista, più diffusa in alcune frange della popolazione, una fazione che invece voleva abbattere il governo del sovrano, abbattere anche il governo di Daoud, molti pensavano questo, e scatenare una vera e propria rivoluzione marxista-leninista in Afghanistan, creando una repubblica popolare appoggiata all'Unione Sovietica. Nel 1973 delle due fazioni, la più potente era ovviamente quella pacciamita, che come vi dicevo sarà quella che appoggerà Daoud, il quale, proprio per questo appoggio comunista, sarà chiamato ironicamente il Principe Rosso. In realtà però Daoud, come vi ho raccontato nella scorsa puntata, non aveva nessuna intenzione di diventare il nuovo sovrano dell'Afghanistan, anche se, facendo parte della famiglia reale, ne avrebbe avuto tutto il diritto. Al contrario, una volta preso il potere, Daoud decise di dichiarare decaduta per sempre la monarchia, e di trasformare l'Afghanistan in una repubblica. In una repubblica sulla carta, in realtà in una dittatura, perché il nuovo governo che venne a crearsi era praticamente un governo autocratico, con Daoud, unico capo, praticamente quasi un dittatore, in grado di fare e disfare i governi, non solo, ma che trasformò già in quell'anno la Yoia Ghirga, che era la grande assemblea, cioè il Parlamento afgano, da un Parlamento su base elettiva, come era stato in base alla Costituzione del 64, in un Parlamento, invece, su base nominata, nominata appunto da lui, trasformandolo in pratica in un mero esecutore della sua volontà. Questa situazione politica sarà poi confermata da una nuova Costituzione, che sarà emanata nel 1977, e che vedrà Daoud creare un proprio partito, il cosiddetto Partito Rivoluzionario Nazionale, che con cui governerà il paese. In realtà, una volta preso il potere, Daoud creerà un proprio governo, cercando di tirare dentro anche tutte le altre formazioni politiche. Sarà un governo che avrà dei militari, sarà un governo che avrà anche esponenti comunisti, ovviamente della fazione pacciamita, a cui nel 1973-74 andranno anche alcuni dei ministeri più importanti. Una volta preso il potere, molti si sarebbero aspettati che Daoud portasse a termine quelle riforme che aveva iniziato e poi terminato nel suo periodo da primo ministro, riprendesse lo scontro con il Pakistan, che vi ho raccontato per la questione delle Pashtunilande, si legasse maggiormente all'Unione Sovietica. In effetti, inizialmente, le cose andarono così. Daoud iniziò a premere l'acceleratore sulle riforme, anche dal punto di vista civile, dando maggiore libertà alle donne, cercando di intervenire anche dal punto di vista politico per limitare il potere delle varie tribù, riprese il contrasto con il Pakistan, tanto che in Pakistan iniziarono a crearsi dei movimenti che iniziarono a finanziare gli oppositori del governo Daoud. Chi erano questi oppositori? Beh, erano molteplici. C'erano ovviamente i capi tribù scontenti della situazione, ma c'erano anche i primi movimenti religiosi, i quali mal tolleravano le riforme che erano state imposte da Daoud, riforme che, secondo alcuni, secondo loro, andavano contro la Sharia, contro la legge islamica, e pensavano di dover abbattere il nuovo governo per ripristinare la situazione precedente, più fedele ai dettami, appunto, della Sharia, sul costume, ma anche su quali fossero i diritti pochi e i doveri tanti delle donne. Questi primi movimenti iniziarono a farsi chiamare con un nome che da questo momento in poi non dovete più dimenticarvi quando si parla dell'Afghanistan, cioè i Mujaheddin. Mettiamoli da parte, riparleremo di loro tra poco. Daoud, come vi dicevo, nei primi anni di governo fece esattamente questo, cosa che ovviamente scontentò tantissimo, tantissimo, gli Stati Uniti, i quali fino a quel momento avevano intessuto ottime relazioni con l'Afghanistan tramite Zahir Shah e che temevano in questo modo di vedersi soppiantare nelle relazioni. Ad un certo punto, però, la situazione interna iniziò a mutare. Daoud iniziò a temere che i comunisti in qualche modo potessero cercare di prendere del tutto il potere, soppiantando il suo partito per prendere definitivamente il potere. Per questo iniziò una lenta e sotterranea opera di allontanamento dei capi comunisti dal governo, togliendo prima un ministero, poi un altro, fino sostanzialmente a cercare di marginalizzare il partito comunista togliendogli ogni potere. Non solo. Se nei primi anni si era mantenuto più vicino all'Unione Sovietica, continuando anche l'acquisto di armi già fatto in precedenza, dal 1976-1977 iniziò a cambiare la sua politica, iniziando a dichiararsi espressamente come uno stato, come l'Afghanistan fosse uno stato non allineato, parteciperà anche a una conferenza di paesi non allineati, dichiarando ufficialmente l'Afghanistan né schierato con l'Unione Sovietica né con gli Stati Uniti, e inizierà a intessere relazioni economiche e commerciali, oltre che diplomatiche, anche con stati nell'orbita statunitense. In Medio Oriente, intessendo relazioni con l'Arabia Saudita, con l'Egitto, che inizieranno a finanziare soprattutto l'Arabia Saudita con dei grandi petroldollari e la crescita dell'Afghanistan, e dal 1977 addirittura iniziando a riaprire canali commerciali con il Pakistan, mettendo da parte la questione Pashtuniland e riaprendo rapporti con il Pakistan, cosa che spinse proprio il Pakistan a ridurre i suoi finanziamenti verso i Mujahedin. Questa nuova politica, ovviamente, non piacque ai comunisti, che in effetti un po' ce ne avevano anche messo del loro, perché una volta preso il potere, nel 1974, avevano iniziato anche una serie di assassini politici mirati, come quello di Mohamed Maiwandari, che era uno dei capi delle fazioni, diciamo più moderate, all'interno del governo, era stato anche primo ministro sotto Zahir Shah, e che venne proprio catturato e assassinato con la scusa che fosse una spia da parte dei comunisti quando mantenevano il ministero degli interno. Ovviamente questo aveva messo sul Kivala Daud, che temeva di essere il prossimo. La nuova politica da 1977 di Daud, però, ovviamente, come dicevo, non piaceva ai comunisti, tanto che con l'aiuto dell'Unione Sovietica, all'epoca governata da Leonid Brezhnev, iniziarono una lenta opera per creare malcontento al governo Daud. Il malcontento comunista esplose il 19 aprile 1978. La Miccia fu un assassino, l'assassino di uno dei capi del partito, assassino peraltro avvenuto in circostanze molto misteriose, qualcuno parlava di una rapina andata male, ma la maggior parte pensava che c'entrassero i servizi segreti di Daud. Ad ogni modo, questo assassino scatenò durante la manifestazione, o meglio, durante i funerali il 19 aprile appunto del 1978, una grande manifestazione che portò in piazza dalle 3 alle 5 mila persone per protestare contro Daud, cosa che fece temere al presidente che quelli fossero i prodromi di un colpo di Stato. La sua risposta fu molto semplice, diede ordine all'esercito di catturare i capi del partito. Il problema è che, come vi ho già detto, l'esercito era a tutti gli effetti infiltrato dal partito comunista, con il risultato che dei tre capi, Taraki, Amin e Carmalle, due riuscirono a scappare e il terzo, cioè Amin, pur catturato, venne portato in una località da cui riusciva comodamente a continuare a comunicare con gli altri e addirittura a dare ordine all'esercito. D'Aur, temendo per la sua vita, aveva quindi riunito quelle che credeva essere le forze ancora a lui fedeli e gli aveva dato l'ordine di proteggere il palazzo presidenziale, in particolare schierando dei carri armati proprio di fronte all'entrata. Il 27 aprile, però, Amin diede l'ordine e quei carri armati che D'Aur pensavano potessero proteggere girarono i loro cannoni e iniziarono a sparare proprio contro il palazzo presidenziale, mentre dall'alto gli aerei dell'esercito afghano colpivano il palazzo e i fedeli di D'Aur. Gli scontri furono molto brevi. Il giorno successivo, il 28, le radio afghane diffondevano la notizia che c'era stato un colpo di Stato, che D'Aur, la sua famiglia e i suoi ministri erano morti e che da quel momento in poi a governare sarebbe stato il Partito Comunista. Già, però quale Partito Comunista? È una bella domanda. In realtà, almeno inizialmente, si riunirono entrambi i partiti, sia i calchiti che i paciamisti. Si riunirono in un unico partito, tanto che i rispettivi capi si spartirono il potere. Taracchi divenne presidente, Amin divenne capo del Parlamento, che ovviamente venne trasformato in un Parlamento con un partito unico di nuovo, ma questa volta quello comunista, e iniziarono, almeno per quel 1978, in qualche modo ad andare d'amore d'accordo. Anche perché, inizialmente, le politiche erano le stesse per tutte e due le formazioni. Innanzitutto, una politica di tipo economico. Una delle prime riforme che vennero fatte fu una redistribuzione agraria, che in realtà voleva dire sostanzialmente requisire le terre dei grandi proprietari terrieri per redistribuirle ai contadini più poveri. Tra l'altro, togliendo l'obbligo proprio per questi contadini di pagare i pesanti debiti che fino a quel momento avevano contratto con i grandi proprietari. Sulla carta era una classica iniziativa comunista, ma in realtà venne molto poco tollerata fuori dalle grandi città, perché ovviamente era ancora una volta un modo con cui lo Stato andava a interferire in equilibri locali. Perché ricordatevi sempre che in Afghanistan, oggi come allora, localmente di equilibri locali valgono di più di quelli nazionali. Il risultato fu che questa riforma agraria venne portata avanti, perché a termine non si può dire mai a termine, con molta, molta difficoltà. Non fu però l'unica riforma che venne fatta. L'altra riforma che venne fatta fu un'ulteriore accelerazione sulla modifica dei costumi afghani, in particolare per quanto riguardava le donne. Tra 1978 e 1979 vennero emanate una serie di leggi che davano il voto alle donne, le coinvolgevano in ambito politico, toglievano ogni limitazione alle donne rispetto agli uomini e addirittura andavano ad intervenire su quell'antichissima pratica di matrimoni combinati che era la norma all'epoca in tutto l'Afghanistan. Queste decisioni, tutte queste decisioni, ovviamente saranno molto mal accettate a livello locale e con la nascita o meglio la ripresa di quella lotta religiosa guidata dai mujahideen ecco che torniamo a parlarne che inizierà a lottare e inizierà a prendere controllo anche delle campagne contro il partito comunista che molto a fatica riuscirà solo a mantenere il controllo delle grandi città con alcune di queste tra cui Erat che invece inizieranno a ribellarsi contro il governo centrale. Erat ve la faccio vedere perché da lì inizierà proprio le prime grandi rivolte contro il governo centrale comunista questo governo però ovviamente era osteggiato anche dall'estero gli Stati Uniti che già tolleravano a malapena da Ur e che poi si erano tornati a riavvicinare insieme ai pakistani una volta che questo aveva preso una posizione intermedia una volta che i comunisti avevano preso il potere avevano deciso che l'Afghanistan doveva essere rientrare all'interno della loro agenda e quindi col governo Carter avevano iniziato a inviare del denaro inizialmente poco ovviamente tramite il Pakistan per finanziare la lotta contro il partito comunista e chi veniva finanziato? beh dato che era il Pakistan a tutti gli effetti a scegliere chi finanziare i pakistani scelsero quelli con cui già avevano contatti cioè quei famosi Mujahedin combattenti della Jihad letteralmente vuol dire quello con cui già avevano contatti che iniziarono a essere riforniti di armi iniziarono a essere riforniti di aiuti e iniziarono una lotta senza quartiere contro il governo comunista che aveva preso il potere in risposta a questa lotta i comunisti iniziarono una durissima repressione che porterà tra 1978 e 1979 un numero variabile tra le 10.000 e le 30.000 persone a essere imprigionate torturate e uccise una repressione dura che peraltro vedrà anche l'Unione Sovietica schierarsi contro questo intervento temendo e questo lo sappiamo dai registri appunto sovietici dai documenti sovietici si iniziò a parlare anche l'Unione Sovietica di una repressione troppo dura che invece che riportare l'ordine in Afghanistan l'avrebbe solo ulteriormente frammentato nel 1979 la situazione per l'inizio diventare sempre più complessa innanzitutto perché gli statunitensi iniziarono a puntare molto più denaro sull'Afghanistan perché perché avevano perso l'Iran l'Iran che fino a quel momento era stato il loro grande alleato nell'area anche in funzione antisovietica in seguito alla rivoluzione che aveva portato al potere il movimento religioso si era ovviamente schierato contro gli stati uniti che erano improvvisamente diventati il grande satana e quindi gli stati uniti avevano bisogno di un nuovo alleato nell'area e non potevano permettersi di perdere anche l'Afghanistan dopo l'Iran il secondo problema fu che all'interno del governo comunista le antiche divisioni tornarono a comparire e tra Taraki e Amin iniziarono a avere propria lotta senza quartiere Taraki inizialmente cercò di far fuori l'avversario dal punto di vista politico fece un rimpasto di governo venne creato un nuovo meccanismo venne messo da parte il vecchio parlamento creato da Daur e venne creato una specie di consiglio del soviet che avrebbe dovuto governare l'Afghanistan e ad Amin venne assegnata una carica senza alcun reale potere in modo da estrometterlo dal potere che sarebbe stato accentrato nelle mani di Taraki il 14 settembre del 1979 però quest'ultimo una volta tornato da un viaggio a Lavana da un viaggio a Cuba atterrato in Afghanistan sarà catturato da forze fedeli ad Amin che lo cattureranno e quella stessa notte lo uccideranno facendo nominando Amin come nuovo presidente dell'Afghanistan la situazione ovviamente precipitò completamente nel caos da una parte c'erano quelli che si ribellavano contro i comunisti dall'altra c'erano quelli fedeli ad Amin dall'altra ancora c'erano quelli fedeli a Taraki e in mezzo a tutto questo iniziarono a starci i sovietici e già perché non vi ho ancora detto una cosa non erano solo gli americani che si interessavano all'Afghanistan quando i sovietici come vi dicevo prima iniziarono a capire che il rischio era che lo Stato si frammentasse iniziarono a fare pressioni su Taraki affinché chiedesse il loro aiuto e in effetti Taraki aveva fatto così i sovietici avevano creato una specie di comitato proprio delegato all'Afghanistan guidato da Yuri Andropov che sarebbe diventato di lì a pochi anni presidente del soviet segretario del soviet capo dell'unione sovietica guidato da Andropov che convince Taraki a richiedere l'intervento sovietico prima qualche forza speciale poi un po' di elicotteri qualche carro armato ad un certo punto gli afghani iniziarono a chiedere l'ingresso in Afghanistan di vere e proprie divisioni sovietiche che si sparsero per il paese iniziando a diffondersi creando dei veri e propri capisaldi ufficialmente lottando contro i ribelli in realtà cercando di estendere il loro controllo sul paese se il governo Taraki ai sovietici non piaceva così tanto quello di Amin piaceva ancora meno e piaceva ancora meno che la situazione stesse continuando a peggiorare ad un certo punto i servizi segreti afghani iniziarono a diffondere la notizia all'interno del governo che i sovietici stavano preparando un altro colpo di stato dopo aver aiutato Taraki a prendere potere dopo aver sopportato il colpo di stato di Amin ne stavano preparando un altro per deporre lo stesso Amin che però da quanto viene raccontato non ci credeva anzi credeva che quel documento fosse stato creato ad arte per creare nemicizia tra lui e i sovietici i sovietici che continuava a vedere come degli amici d'altronde mandavano le truppe che lui richiedeva e quindi si rifiutò di prendere alcuna iniziativa per difendersi i sovietici invece quel colpo di stato lo stavano preparando veramente lo stavano preparando anche perché Andropov e altri iniziavano a pensare che Amin lungi da essere un comunista fosse in realtà una spia infiltrata da parte della CIA in realtà probabilmente per gli storici era falso la CIA stava si infiltrando spiega in Afghanistan gli serviranno poi negli anni successivi ma lui non era tra queste lui era leale all'unione sovietica ma questo non importava nel dicembre del 1979 infatti l'unione sovietica mandò un piccolo gruppo delle sue forze speciali gli Spetsnaz a Kabul questi si infiltrarono tra i gradi del governo tra i gradi dell'esercito e il 27 dicembre 1979 scatenarono l'operazione Tempesta 333 fu un attacco in piena regola un attacco rivolto proprio contro Amin che venne catturato e giustiziato accusato di essere a capo di un movimento anticomunista era falso ma il nuovo governo che i comunisti insedieranno sarà in realtà un governo fantoccio un governo che in questo caos gigantesco non avrà nessuna possibilità di mantenere unito l'Afghanistan e questo costringerà i sovietici ad entrare in guerra perché quest'ultimo colpo di stato il 27 dicembre 1979 è il primo tassello del domino che inizia a cadere instabilità guerra ingresso in guerra da parte dei sovietici invasione da parte sovietica iniziava quello che qualcuno avrebbe definito il Vietnam dell'Unione Sovietica una delle cause della sua fine una guerra infinita che causerà morti distruzioni e che forse inizia la storia dell'Afghanistan attuale ma di questo ne parleremo nella prossima puntata vi lascio un ultimo pensiero quello che succederà nella prossima puntata alcuni analisti americani l'avevano già capito tanto che si dice che tra 78 e 79 se gli americani in realtà erano intervenuti solo in parte invece che per rovesciare il governo comunista solo per aumentare il caos era perché già prevedevano quello che sarebbe successo già prevedevano che il caos avrebbe portato i sovietici a entrare in guerra già prevedevano la lunghezza di quella guerra gli Stati Uniti avevano avuto il Vietnam i sovietici avrebbero avuto l'Afghanistan questa volta pare che gli analisti americani ci avessero preso ma vedremo nella prossima puntata io mi fermo qua spero che questa puntata vi sia piaciuta vi abbia raccontato un altro tassello vedete che i problemi sono sempre gli stessi frantumazione dello Stato interventi esterni una volta erano Inghilterra-Rustia adesso abbiamo Stati Uniti Unione Sovietica ma soprattutto questo continuo rimbalzare tra innovazione e ritorno al passato lo continueremo a vedere rimbalzare lo continuiamo a vedere rimbalzare ancora oggi ad ogni modo se volete riascoltare questa pilola o altre pilole vecchie potete farlo qua su Youtube potete farlo sul podcast se lo trovate in descrizione se volete contattarci scrivere pilole proporcene o semplicemente chiacchierare potete farlo sui nostri social su Instagram su Facebook su Telegram anche quelli in descrizione se non volete perdervi le prossime pilole iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pilole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pilola di storia ci vediamo lunedì prossimo per andare avanti con questa storia quella dell'Afghanistan e parlare dell'invasione sovietica a presto ciao ciao